2 milioni di euro per i 5 porti marchigiani non sono sufficienti, è il pensiero del sindaco di Fano Massimo Seri, che oltre a ringraziare l'assessore regionale Paola Giorgi per impegno profuso sino ad oggi, lancia un altro appello all'assessore al bilancio Pietro Marcolini e alle varie rappresentanze politiche, questo affinché facciano un ulteriore sforzo per destinare altre risorse al porto di Fano. Solo con 700 mila euro in più rispetto a quelli già ottenuti, secondo il primo cittadino sarebbe possibile dragare i 25 mila metri cubi concordati e portare in Ancona i 20 mila già dragati e depositati per ora al Fantasy World. In questo modo sarà davvero possibile dare una risposta alla cittadinanza e alle conseguenti attività bloccate, la pesca, la cantieristica e il turismo. Io sono fiducioso, mi sto adoperando quotidianamente, ormai ho fatto il solco tra Fano e Ancona per queste cose, lo sto facendo insieme a tutti gli operatori rappresentanti di tutte le categorie che operano all'interno del porto, però a questo punto chiedo uno sforzo maggiore perché per fare un lavoro completo occorrono altre risorse, quei due milioni destinati non sono sufficienti per tutti. L'alternativa, secondo il sindaco, è fare in modo che buona parte dei 2 milioni di euro venga destinata a Fano per chi è la città che insieme a Porto San Giorgio sta affrontando maggiori criticità. Un altro tema poi discusso oggi nella consueta conferenza stampa del venerdì è stato quello relativo alla fondazione Teatro che, come affermato da Seri, non è in discussione. Sono aumentati gli ingressi, la critica è stata positiva, ha detto, e l'amministrazione ha piena fiducia nel presidente Cati Amati. Verranno comunque ottimizzate le spese modificando parte dell'organizzazione e si continuerà a lavorare e a puntare sulla qualità dell'offerta culturale. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di fare in modo che la funzione della fondazione prosegua, è quella della produzione, è quella anche di trovare risorse aggiuntive all'esterno. La sensazione che ho è che con questa qualità culturale che sta crescendo, sta crescendo anche un interesse di soggetti privati che guardano con attenzione al teatro, che è un patrimonio che può essere utile, un valore aggiunto anche per altre attività, a cominciare da quelle del business. E per meglio gestire e valorizzare l'intero patrimonio del Comune di Fano, portando al tempo stesso risparmi, si sta pensando anche alla vendita del Palazzo dell'Urbanistica. Io non parlerei dell'Ufficio dell'Urbanistica, parlerei di una politica nuova di gestione del patrimonio del Comune di Fano. Abbiamo ripensato una nuova politica di valorizzazione del nostro patrimonio, di recupero di spazi che sono inutilizzati per rendere ottimale il lavoro anche all'interno degli uffici. Allora c'è una strategia complessiva che riguarda un po' tutti i nostri immobili, sia quelli dove siamo coi fitti passivi, sia quelli che sono le nostre proprietà e quelli che sono vuoti. Penso alla vecchia caserma dei Carabinieri, penso al Tribunale, che noi pensiamo nell'arco di un triennio di poter ottimizzare e portare anche dei benefici consistenti ai risparmi all'interno del bilancio comunale. Grazie. 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 Grazie.